Buongiorno a tutti, la notte è passata come sempre come tutti i presidi con alti e bassi nel senso che ovviamente non è possibile riposare perché devi essere in allerta e quindi tra dormiveglia, occhi chiusi qualche secondo e poi riapri e ti guardi intorno, è passata questa notte, questa prima notte. Il tempo qui a Padova non ci è amico, sta piovendo, sta diluviando, ha diluviato tutta la notte e purtroppo ci costringe a stare chiusi in macchina, questo ovviamente non dà lo stesso risultato perché non sei di disturbo, sei in macchina e quindi nemmeno sanno che sei qui fuori, gli sta benissimo che tu rimani qui in presidio anche tutta la vita perché così il problema non si crea né per loro né e per l'ordine pubblico. Siccome io ovviamente non mi faccio fermare da una pioggia, sto studiando qualcosa di diverso, quindi ovviamente nella legge di muovermi in maniera diversa rimanendo in presidio, ma probabilmente entrando in tribunale direttamente e comunicando la volontà di un'audienza o programmata o nell'immediato visto il presidio nella parte esterna. Vediamo, vi tengo aggiornati, magari più tardi tra un paio d'orette, visto che vedevo le mani alzate di qualcuno nell'attesa di poter fare quest'azione e organizzarla con gli altri apolidi e facciamo due chiacchiere con voi in video. Bene, la polizia tutta la notte ha girato, ha fatto passaggio tutta la notte, per il momento tutto è tranquillo. Mamma mia che grigio. Ci sentiamo più tardi?